La crisi serpeggia ancora nelle strade e nelle dichiarazioni dei redditi, ma una possibile schiarita sarebbe in arrivo. Lo dicono le ricerche della Camera di Commercio di Milano, che se da una parte rileva i 4 miliardi di valore aggiunto persi dal 2008, segnala anche una ripresa che dal 2014, forte del traino di Expo 2015, farà riprendere la crescita e il segno più accomunerà imprese, export, turismo e servizi. I valori pre-crisi potrebbero tornare le imprese e danno segnali di ottimismo, ma a parole ancora 9 imprenditori su 10 ritengono che il peggio non sia ancora passato. Le titubanze giustificate vengono da ormai 5 anni di rallentamenti, ma aumentano quelli che vedono una possibilità di ripresa in particolare legata a Expo. Il 94% delle aziende tuttavia ancora non si dice disposto a fare assunzioni il prossimo anno, nonostante i dati milanesi abbiano dimostrato un trend meno in discesa del resto della penisola. Alleato per lo sviluppo resta l'export, con un più 3,5% sulle esportazioni e un meno 6,7% sulle importazioni, un dato positivo che pesa come il 10% dell'intera nazione per commerci con l'Europa, America e Asia orientale. Ma mentre si attendono i benefici dell'esposizione internazionale, con lo sguardo dell'intero globo puntato su Milano, il quadro occupazionale continua ad aggravarsi anche in città. Il tasso di disoccupazione nel 2012 ha sfiorato l'8%, minore del dato nazionale che tocca il 12%, ma comunque un record. La crisi e il bisogno di liquidità fa sì che cresca il lavoro flessibile, facendo addirittura diminuire i già poco stabili contratti a progetto in favore di collaborazioni occasionali. Grazie a tutti. Grazie a tutti.